Si sono accorti che c'era qualcosa di sospetto e li hanno voluti controllare. I poliziotti della sezione volanti durante un controllo del territorio a piedi hanno perquisito alcune persone che si trovavano alla Villa Cordova. Tra loro due pregiudicati. Uno di loro ha provato a nascondere uno spinello che stava fumando appena visto i poliziotti. Da una perquisizione sul posto addosso a uno di essi, un pregiudicato di 37 anni, gli agenti hanno trovato uno spinello, un sacchetto di cellofan con 0,47 grammi di marijuana e una catena metallica di circa 80 centimetri. Addosso all'altro, invece, un diciottenne immune da pregiudizi penali hanno trovato un coltello a serramanico della larghezza complessiva di 14 centimetri. I due sono stati accompagnati in questura e denunciati per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. Grazie.